Si vede nei film, ecco, una cosa che ho visto quella notte là quando sono uscito, fiamme dappertutto, la casa era, il casezzato perché è grande, era totalmente avvolto. Via Roma, pieno centro di Breda di Piave, a due passi dalla chiesa, l'incendio divampato la notte di Pasqua che ha coinvolto un intero caseggiato in fase di ristrutturazione. Ho ricevuto la telefonata all'una e venti circa e mi sono precipitato qua, c'erano già tutti schierati i vigili del fuoco e anche i carabinieri che stavano compiendo il loro lavoro e niente, noi abbiamo vigilato su quanto stava accadendo, cercando di rimanere vicini ai proprietari che naturalmente sono disperati. Squadre dei vigili del fuoco arrivate da Treviso e Asolo impegnate tutta la notte nelle operazioni di spegnimento, proseguite anche il giorno di Pasqua a causa dei continui focolai che dall'interno dell'abitazione si autoalimentavano. Le cause del rogo sono ancora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, probabilmente un cortocircuito di una pompa di calore. Ci sono ancora tanti dubbi anche perché ieri comunque era ancora difficile entrare e andare a verificare. Adesso, anche grazie alla pioggia, speriamo che tutto sia definitivamente spento e dopodiché penso già da domani riusciranno a cominciare a fare le verifiche. Caseggiato da molto tempo in disuso e che era da poco stato acquistato da una famiglia, il sogno di sistemarlo e portare anche i parenti più stretti a vivere lì. Nonostante la casa fosse già in parte abitata a nessuno, fortunatamente è rimasto ferito. Tanta la paura non solo tra i residenti ma anche tra i vicini. Il fumo e il fuoco visibile anche a chilometri di distanza. Ha fatto molta paura, il vento soffiava in quella direzione e le case limitrofe erano molto preoccupate, gli abitanti delle case erano molto preoccupati. Fortunatamente, al di là di un principio d'incendio a una palma qui del giardino della casa, non è successo nulla. Un caseggiato che affaccia direttamente su via Roma, strada, rimasta chiusa tutta la notte di sabato e a traffico alternato durante il giorno di Pasqua. Tratto messo in sicurezza dall'amministrazione con transenne per scongiurare che un possibile cedimento della struttura invada la corsia. Veramente dispiace tanto per la famiglia, già sono arrivati tanti attestati di solidarietà da parte della cittadinanza, noi li incontreremo io personalmente, insieme ai nostri uffici già domani se loro sono disponibili per cercare di capire come poterli sostenere.